Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e mentre parlo è uscito da pochissimo il nuovo trailer che dura anche più di due minuti tra l'altro, di Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. Sapete che qualche giorno fa ho fatto la reaction allo sneak peek che faceva da preambolo a questo trailer uscito settimana scorsa e stavo attendendo spasmodicamente proprio il trailer ufficiale perché pare che sia qualcosa di clamoroso. Quindi adesso lo guardiamo e poi naturalmente ne discutiamo insieme. Oh sì! Ah la musica! Ecco qua, questa è l'immagine con... Oh! Bellissima! Mamma mia! Ma senti la musica! Oh! Bellissimo! Le ambientazioni sono incredibili! La divisione dei popoli! Eccoli i proto-hobiti pelopieri! Meteorite! E ripeto per me è Annatar! Cioè Sauron che poi ti chiamano Annatar! Metti via la spada! Il nemico è ancora lì fuori! La domanda ora è dove? Mamma! È tutto concluso! Ma tu non hai visto quello che ho visto io? Ho visto la mia parte! Tu non hai visto... Mamma! Eccola qua! Madonna! Un'altra visione di sventura! Lei ce l'ha questa cosa qua! Porca puttana ragazzi! Ma è bellissimo! L'oscurità marcerà sulla faccia della terra! Sarà la fine non solo del nostro... Mamma! Ma di tutti i popoli! Mi dispiace! Ma è giunta la loro ora! Io qui la tosse la tolchi la sento! Eccolo! C'è il giovane Isildurank! Ricordiamolo! Mamma! O andiamo avanti! O moriamo con esso! Può essere il principio di una nuova era! Mamma! Eccolo qui il... Eh... Sì eh... Eh... Ragazzi! Io ho come l'impressione che... Ho i brividi! Ragazzi ho i brividi giuro! Mamma mia! Eh... Ce n'è da dire eh! Allora... Io sono esterrefatto perché come sapete questa serie è la più costosa di sempre! Il budget è altissimo e si vede! Si vede tutto! Dalle ambientazioni alla CGI! Quando si vede Valinor, quando si vedono anche le altre città, io ho pensato subito ai film di Peter Jackson! Non credo che eh... Si possa negare! E eh... So che c'è molta diffidenza per questo prodotto! Io fin dalle prime immagini invece ehm... Sono rimasto molto soddisfatto! Ho un hype clamoroso! Ma per il semplice fatto che eh... Quello che ho visto in questo teaser lo trovo clamoroso! Ho sentito il pathos! Ho sentito l'atmosfera alla Tolkien! Quando si vedono i nani che parlano! E io lì ci ho visto tanto dei Cine di Anelli, dello Hobbit! Anche se a me la teologia Hobbit non ha fatto impazzire con ancora i Cine di Anelli! Comunque i primi due non erano affatto male! L'atmosfera che tanti dicevano non si sentisse! Io invece l'ho percepita tantissimo! Mi convince Morfid Clark come Galadriel! Mi convince tantissimo! Mi piace questa Galadriel molto guerriera! Che è una veste in cui non l'avevamo vista in un prodotto audiovisivo! Poi so che in tanti si sono lamentati per Celebrimbor! Spero si pronunci così! Chiedo scusa ai Tolkieniani più accaniti! Ma io con le pronunce faccio veramente cacare! Non solo per quanto riguarda i personaggi del Signore di Anelli! Ma in generale! Io proprio le canno sempre! È proprio un difetto mio come essere umano! Non solo per i film ma in generale! Comunque sia Ellen dire quant'altro! A me non dispiacciono! Gli Elfi qui li vedo piuttosto alteri! E questo a me piace! Devo essere sincero! Ma in generale non mi sembra di aver visto personaggi fuori posto! Anche Tarmiriel mi sembra interessante! Il giovane Isildur! Tra l'altro ieri Entertainment Weekly ha pubblicato delle immagini in esclusiva! Non state a guardare l'eccessiva pulizia di queste foto! Per il semplice fatto che ovviamente sono foto che vanno su una rivista patinata e quindi non riflettono quella che è la fotografia poi della serie! Perché in questo trailer la fotografia è differente da quella che si vede nelle foto! A me piace tanto! È una fotografia molto pulita ma che ha una sua personalità! Che mi ricorda in parte i prodotti di Jackson! Ma d'altra parte ha qualcosa di nuovo al suo interno! Che la differenza da altre serie fantasy che si sono viste come Game of Thrones o The Witcher per citare quelle più guardate degli ultimi anni mi sembra una cosa molto più personale! Una cosa che esula da quelle! E per questo io sono contentissimo! E in queste foto si vede per appunto Miriel, la regina reggente, con Isildur che va con l'esercito Numenoreano in battaglia! La vediamo a cavallo da sola! Poi abbiamo visto una foto che anticipava la visione di Galadriel, quella visione di morte con il fuoco che richiama direttamente l'occhio di Sauron perché quello richiama a livello anche di colori, a livello di come l'hanno messa! Quindi c'è la minaccia che sta arrivando e poi c'è il famoso Meteorite! Allora, lo sapete che nel Meteorite in tanti pensavano ci fosse Annatar! Bisogna capire! Bisogna capire perché alcuni pensano che sia invece uno degli stregoni blu! Alla fine vediamo questo vecchio con delle seguaci col bastone che cammina che dovrebbe in teoria essere quello che era nel Meteorite! Noi non è che abbiamo molte notizie su come sarà Annatar! Che ci sia Annatar è sicuro! Non sappiamo, quindi Sauron che si fa chiamare Annatar come verrà mostrato! Può essere che sia lui! Può essere che non sia lui! Il punto però è che sì, ci sono delle discrete differenze a livello proprio di tempi! Ci sono delle cose che vengono anticipate di tantissimi secoli però io questo me lo aspetto! L'ho già detto nel video precedente a questo, quello sul teaser in cui si vedeva la meteora! Io sono prontissimo a completamente vedere delle cose cambiate! L'hanno già detto! Non ci sarà una grande fedeltà ai romanzi per quanto riguarda le tempistiche su alcune cose! Io personalmente trovo che se il racconto è comunque funzionale e riescono a raccontarmi una bella storia mi va benissimo così! Mi va benissimo così! È qualcosa che francamente non mi disturba! Purché sia raccontato il tutto molto bene! Perché alcuni personaggi sono direttamente derivanti dai libri quindi abbiamo visto Miriel, abbiamo visto Galadriel, Brimbor, Elendil, Isildur eccetera ma ce ne sono altri come Disa, la nana che era già stata teaserata nelle foto tempo fa che è un personaggio che non si era mai visto, un personaggio inventato in sana pianta l'elfo Silvano tanto criticato dalla pelle nera insomma ci sono anche personaggi che non esistono negli scritti di Tolkien però Tolkien è sempre stato aperto ad una giunta, una rilaborazione anche delle sue opere quindi non vedo quale sia il problema sinceramente io aspetterei a criticare prima di vederla però una cosa la posso dire uno può non essere convinto ma da un punto di vista visivo ma che gli vuoi dire? Cioè da un punto di vista visivo è una delle cose più belle che abbia visto per... cioè a livello di teasing, poi magari la serie è diversa, non lo so ma a livello di teasing è una delle cose più sontuose che si siano viste in televisione cioè quando guardammo il teaser di Game of Thrones la prima volta era magniloquente ma non avevano questo budget e le immagini erano un po' meno impattanti anche The Witcher, bello quanto vuoi da un punto di vista estetico molti non sono d'accordo tra l'altro però nessuna di queste mi ha fatto l'impressione all'epoca quando uscirono i primi teaser che mi ha fatto questa finalmente vediamo anche un po' di trama la minaccia che sta arrivando con la suddivisione di tutti i popoli che piano piano saranno costretti a collaborare già questa cosa l'abbiamo visto nel trailer del meteorite dove tutti i vari rappresentanti dei popoli vedevano il meteorite che passava qui vediamo proprio che si prospetta una unione di questi popoli vediamo i pelopiedi che dicono noi siamo a posto siamo liberi siamo al sicuro e in realtà nessuno è al sicuro dalla minaccia che sta arrivando peraltro il vecchio col bastone alla fine con le seguacce a me è inquietato tantissimo non so perché perché è proprio la minaccia che sta avanzando pian piano dall'aspetto innocuo è una cosa che adoro veramente è una cosa che adoro mi piace tantissimo e la musica cioè ragazzi le musiche sono qualcosa di clamoroso mi hanno proprio buttato nell'atmosfera del signore degli anelli e se vedete anche le foto le foto sono pazzesche secondo me io sono effettivamente in grande hype peraltro questa va direttamente in competizione con house of the dragon altra serie fantasy spin off di game of thrones che parlerà della danza dei draghi un evento già scritto già finito per cui non supererà la serie non supererà mai gli iscritti di martin in quel caso come è accaduto con game of thrones potrebbe essere interessante però vi dico che ho molto più hype per questa perché per quanto house of the dragon possa essere l'occasione per raccontarci un qualcosa riguardante game of thrones sotto un punto di vista diverso con una cura maggiore rispetto a quella che ci hanno messo per le ultime stagioni della serie originale questa è una serie sul signore degli anelli è qualcosa che non si era mai visto prima è qualcosa che nemmeno avremmo mai pensato di poter vedere se ci pensate quindi è anche logico che io sia in grandissimo fomento e quello che ho visto qui a me sinceramente piace piace tanto sono molto aperto alle rielaborazioni ripeto dipende tutto da come mi raccontano le cose molti dicono è però easy il duro ma non tornano i tempi e com'è e com'è raga è normale che i tempi non torneranno allora tra l'altro c'è una cosa che è un po' poco chiara hanno detto fin dall'inizio che questa serie sarebbe stata inserita nella timeline dei film cioè è il passato del mondo dei film di jackson poi avevano detto che no non era vero sta di fatto che sia perché poi jackson doveva lavorare come supervisore però non ha potuto non mi ricordo se per il covid o per qualcos'altro comunque sia lui era anche d'accordo in realtà sta di fatto che secondo me essendo una rielaborazione possiamo anche cioè alla fine nella timeline dei film non è che ti dicono come erano i tempi nel passato quindi se anche fosse così ci starebbe anche bene perché diventa una timeline derivante dagli iscritti di Tolkien ma diversa cioè io continuo a ripetere che jackson per quanto abbia trasposto egregiamente il signore di anelli si è preso anche lui delle libertà ha tolto tom bombadil e secondo me ha fatto benissimo perché tom bombadil in audiovisivo rischia di sembrare un cazzone e invece è un personaggio nobilissimo che però non è semplice da trasporre in maniera credibile e allora jackson piuttosto che rovinare quello che è il suo personaggio preferito perché tom bombadil è il suo personaggio preferito ha è deciso di non metterlo il discorso qual è? il discorso è che questo a tanti è andato bene anche perché voi dovete capire che io lo so che ci sono tanti torcani e caniti che vogliono vogliono una serie perfetta ma dovete capire che questo è un prodotto che andrà su una piattaforma di streaming tra le più importanti ed è un prodotto che deve essere fruito anche dalla massa il signore degli anelli è un prodotto che è stato fruito da milioni di persone che il fantasy l'avevano visto fino a quel momento col binocolo e che non sapevano un cazzo dei libri quindi dovete pensare che il loro obiettivo è accontentare in parte il pubblico esperto di Tolkien ma accontentare anche quella grande massa di persone che vuole vedere qualcosa di più accessibile perché se si trasponessero gli iscritti di Tolkien esattamente come sono probabilmente la maggior parte del pubblico generalista si farebbe due palle così dovete anche capire che è un prodotto che deve essere fruito da tutti per cui quelli più esperti quelli più rigidi secondo me dovrebbero anche provare a vedere il tutto in quest'ottica non è che si sta rovinando quello che ha scritto Tolkien probabilmente probabilmente alcune cose non soddisferanno i conoscitori raffinati del mondo di Tolkien ma magari altre cose sì cioè adesso io sfido qualunque grande appassionato a non aver visto questo trailer senza provare un brividino magari poi non è convinto per altre cose ma un brividino lungo la schiena non può non scendere a guardare una roba del genere cioè per me è veramente un trailer confezionato come dio comanda io adesso ho una voglia incredibile di conoscere tutti i personaggi quello che mi incuriosisce maggiormente è Isildur poi voglio vedere Annatar come lo abbiano creato voglio capire nel vetorite chi è se è lui se non è lui voglio capire tutto cioè proprio questo trailer mi ha fatto venire una cazzo di voglia di sapere come si svilupperà la serie perché se ci pensate noi fino adesso non sapevamo quasi nulla sì nelle settimane precedenti nei mesi precedenti ci hanno dato qualche qualche nome di personaggio però noi la trama non è che la sappiamo a un certo punto c'è il nano che mostra questo oggetto che sembrerebbe un anello che dice potrebbe essere l'inizio di una nuova era ok non so se sia già l'anello perché qui dovevamo vedere in teoria la forgiatura degli anelli quindi l'idea era che si basasse un po' tutto sulla forgiatura dei grandi anelli quindi non so se quello fosse già uno degli anelli non so neanche se verranno bisogna capire se in questa serie sono già forgiati se vedremo la forgiatura non è che ci sia stato spiegato bene e non ci si può orientare neanche bene con i tempi perché è evidente che hanno cambiato parecchio i tempi rispetto a quello che si è visto negli iscritti di Tolkien c'è gente che vedendo i meteorite si è paralizzata dicendo ma questa cosa non dovrebbe venire lì cioè è tutto sbagliato si asserve alla necessità di trama vediamo a me se mi anticipano cose di secoli o migliaia di anni se è contestualizzato non dà particolarmente fastidio dipende tutto come decideranno di raccontarci questa storia io sono tutto orecchi io la voglio sentire questa storia c'è qualcosa che non mi ha convinto francamente no cioè anche le cose magari che mi ha fatto pensare ma questa cosa però forse non dovevamo vederla in un altro momento comunque mi interessano cioè comunque mi interessa c'è chi si è lamentato dicendo se Annatar in questa serie interagisce con i proto-Hobbit allora non va bene perché Sauron neanche sapeva quali fosse cosa fossero gli Hobbit però anche lì se fosse inserito nella timeline dei film avrebbe senso perché non è che ti ha mai detto che Sauron non sa cosa sono gli Hobbit ok è una roba che ti dicono nei libri però al punto che questa è una trasposizione un adattamento quindi se qui li conosce sti cazzi non è un grosso problema capite cosa intendo non è una cosa che ti cambia il senso della storia del tutto dipende anche quanto una persona è disposta a aprirsi a un adattamento ricordiamoci che è rarissimo trovare un'opera audiovisiva che sia un adattamento uno a uno di un'opera dell'opera da cui deriva e di solito questo tipo di adattamenti a me non fanno mai troppo impazzire io preferisco la trasposizione l'adattamento piuttosto che la semplice copia a carbone perché altrimenti che senso ha cioè a me ad esempio Watchmen di Snyder sono uno dei pochi che lo apprezza a me è piaciuto però ho apprezzato che nonostante fosse quasi shot for shot per certe scene alcune cose le avevi cambiate come la cosa del polipone meno male che l'hanno cambiato perché Snyder David Eiter in realtà aveva capito che nel film al cinema questa cosa non avrebbe retto e quindi l'ha cambiata quindi c'è l'adattamento e la trasposizione anche lì io preferisco quando si adatta con criterio però cioè tu puoi cambiarmi tutto quello che vuoi basta che nel farlo ci sia un senso perché tu vuoi raccontarmi quella cosa in quel modo io ad esempio non mi sono mai lamentato che nello Spider-Man di Sam Raimi Peter Parker avesse le ragnatele organiche mi è sempre piaciuta questa cosa tantissimo molto di più del lancio ragnatele un sacco di gente all'epoca si lamentò perché è una trasposizione a me ad esempio non piaceva l'idea del Batman che uccide in Snyder non tanto perché Batman uccidesse ma perché il motivo per cui uccideva non era esplorato si capiva qual era fammelo vedere fammi vedere perché io voglio vedere perché Batman uccide a questo punto fammi capire come mai quando sempre Snyder in Man of Steel aveva reso Kal-El una persona speciale anche tra i kriptoniani a me era piaciuto perché in quella versione i kriptoniani si generavano tramite clonazione lui era l'unico kriptoniano nato da una donna partorito bella come cosa poi il film aveva un sacco di altri problemi però quella cosa gli era bella perché lui era l'unico kriptoniano con il libero arbitrio quando Zod vede mandarsi a monte il piano lui si incazza perché dice io avevo solo quello scopo io non posso avere nessun altro scopo perché non ho libero arbitrio io ti ammazzo ma cosa mi hai fatto ti rendi conto di quello che hai fatto mi hai tolto scopo alla vita quella cosa per quanto il film ed era una cosa non propriamente riferita ai fumetti più canonici ma ad alcuni cicli era una cosa che mi piaceva come rielaborazione cito i fumetti perché sono perché i cinecomics stanno andando molto e sono quelli per cui bisogna accettare maggiormente un cambiamento perché cambiano moltissimo dall'opera originale i film ecco stessa cosa qua se tu mi metti un criterio su qualcosa io posso starci se invece mi fai Batman che uccide così perché si e te lo accenno ma non te lo spiego mi girano un po' le palle perché se non mi approfondisci la cosa cosa l'hai fatta fare quindi se qua c'è un cambiamento a me se è spiegato va francamente più che bene finché la storia funziona quindi trailer secondo me bellissimo fotografia di queste immagini del trailer che a me è piaciuta tanto belle le musiche belle proprio le immagini a livello estetico è grandioso se la serie ha anche solo un ottavo di questa estetica potrebbe essere qualcosa di grandioso almeno da quel punto di vista ma io vi chiedo riscrivete un conto qui sotto cosa ne pensate voi mi raccomando io vi abbraccio vi ringrazio non scanniamoci è il trailer di una serie litigare scannarci insultarci le madri per una serie non ha senso per favore argomentate pienamente quello che di cui abbiamo parlato quello che ci abbiamo mostrato nel trailer cercando di rimanere sempre civili quindi noi ci vediamo a prossimo buon vlog ciao a tutti grazie a tutti